PEGI 18 Uscire da un loop temporale. Devi sapere come funziona. Black Reef è un puzzle. E ogni visionario, un pezzo diverso. Ecco, Igor. Io sono uno scienziato rispettato. Dopo tanti loop, lo conosco come le mie tasche. Ehi, qui! Vengo a prenderti! Traditore! Uccidetelo! Ma cosa? Sto cercando di concentrarti, stronzo! Ricordo quante volte ho provato ad abbattere i miei bersagli. Ma il tempo non basta mai. Ne inseguo uno, ne rispunta un altro a mezza isola di distanza, dove un visionario diverso ha organizzato una festa per cannibali in maschera. Alexis Dorsi. State tutti zitti! È il mio momento! A Igor piace, ma alla festa non ci arriva mai. Sì, viene trattenuto a casa. Colt, sei... sei lì? Ecco l'invito. Ed ecco perché non si fa vedere. Quella mattina ha fatto una scoperta incredibile. Ce... ce l'ho fatta! Funziona! Come ogni mattina. Se non arrivo prima io. Niente esperimento, niente scoperta. Nessun motivo per cui Igor non dovrebbe brindare al fallimento con Alexis. E ora posso colpirli insieme, nello stesso momento. Nello stesso loop. Peccato! È gol! Non puoi vincere! Ehi, Cloppy! È l'ora della caccia al maiale! Colt! Sto parlando di te! Vieni a giocare con noi! Sei finito! Servi aiuto qui! Otto bersagli sulla lista. Ognuno con un grande progetto di vita eterna. Per spezzare il loop, devo infrangere le regole. Le lancette corrono. Il tuo tempo è appena scaduto. Dimentichi sempre che io non sono come gli altri idioti. Ho solo un nome sulla mia lista. Il tuo. Il tuo tempo è appena scoperta. Pescello. Il tuo tempo è appena scoperta.